Rappresentare chi soffre, i più deboli, il lavoro e chi combatte per salvaguardare il pianeta. Questo è il profilo dei dieci punti sul quale Matteo Ricci ha lavorato in queste settimane per rifondare l'identità del PD, ma che oggi, in una conferenza stampa annunciata ieri pomeriggio, ha risposto definitivamente sulla tanto vociferata candidatura come segretario nazionale dei Demme. Ricci non sarà la guida del PD del futuro. Ufficiale la sua rinuncia, ufficiale il suo appoggio al presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Una scelta derivata dall'amicizia e dalla visione politica simile che li lega. E proprio la linea politica di Ricci, dopo un profondo dialogo tra i due, verrà ripresa in parte da Bonaccini in questi mesi che lo separano dalle primarie del partito, in programma per i primi mesi del prossimo anno. Tra i due candidati che andranno alle primarie abbiamo messo a disposizione questi punti, di quello che ritengo più solido, un amministratore come me, Stefano Bonaccini, con il quale abbiamo dialogato, ha voluto discutere a lungo con me della linea politica, ha assicurato che alcuni punti che abbiamo definito diventeranno punti suoi, ovviamente non tutti, perché questa è la nostra proposta, non è la sua, è giusto che lui abbia la sua, ma che possa consentire a lui di spostare la barra a sinistra. Noi abbiamo bisogno di avere un partito più a sinistra, se vogliamo recuperare i ceti sociali più deboli. Dobbiamo essere il partito che si batte contro le disuguaglianze, un partito che si batte per le opportunità per chi non ne ha. E confido che Stefano faccia quello che ha detto, cioè che mandi avanti una nuova classe dirigente, fatta di giovani amministratori, di sindaci, perché i sindaci in questi anni hanno rappresentato quella sinistra di prossimità che ha vinto e convinto nonostante tutto. Nonostante che negli ultimi dieci anni non abbiamo mai vinto le elezioni nazionali, abbiamo vinto in tantissime città come Pesaro. E quindi credo che siamo un'energia locale fondamentale per la rinascita e anche un modo per davvero cambiare gruppo dirigente e aprire una fase nuova. Ripartire dai sindaci è una proposta alla quale Ricci crede molto, in linea anche con quanto proposto dal primo cittadino di Pesaro per incontrarsi a gennaio con altri mille sindaci italiani. Una rifondazione basata sul dialogo e su una sinistra popolare nazionale, come recita il titolo della convention di venerdì prossimo alle 15 a Roma, dove si ritroveranno alcuni rappresentanti del PD, inclusi Ricci e Bonaccini. Bonaccini che alla corsa alla segreteria nazionale dovrà vedersela ora con Elislein, gli unici due candidati rimasti a delle primarie non libere alle quali Ricci, per scelta sua e per scelta del partito, non rappresenterà una terza proposta. Non sono primarie libere, per cui uno candida e sono le primarie. Per andare alle primarie decidono i pochi iscritti che sono rimasti e di conseguenza ha un potere enorme il partito esistente, non il partito del futuro. Il partito esistente ha già scelto da tempo che i due candidati alle primarie siano quelli. Quindi siamo arrivati terzi, per noi è già un grandissimo risultato. Solo essere citato tra i papabili dopo le elezioni mi ha fatto tremare le vene, i polsi e mi ha dato un grande orgoglio per chi come me è cresciuto a pane politica. Appunto è già un grandissimo risultato, ma non è che ci fermiamo qua. Noi andiamo avanti, cercherò di dare una mano al nuovo segretario, come ho sempre fatto, ma con una linea politica chiara in testa, cercando di aiutarlo sul fronte sinistro, perché altrimenti credo che non solo lui rischia di essere meno competitivo alle primarie, ma noi rischiamo come PD di tornare ad essere nettamente il primo partito nel fronte democratico per guidare il fronte democratico all'alternativa a queste destre.